ancora tanto karting in questa puntata di go kart tv ora ragazzi siamo qui a raccontarvi una storia molto particolare esatto benedetta navigando sul canale seguitissimo youtube di federico leo mi sono imbattuto in un video non sapevo che l'avessi realizzato ti faccio veramente i complimenti e parla di un ragazzo disabile che ha una grandissima passione per il mondo del karting lui è nico tremolada e veramente mi ha lasciato molto emozionato questo video io prima di chiederti nel dettaglio come è vissuto questa esperienza e il perché hai voluto fare questo video io direi benedetta direi proprio di ascoltarla questa intervista che fede ha fatto a nico tremolada può partire allora la mia diciamo esperienza col kart è nata prima negli indoor perché prima bisogna iniziare un po capire bene come fare come non fare poi ho detto facciamo sta pazia passiamo al competizione solo che competizione bisogna trovare anche le aziende che riescono a farti determinati pezzi per il kart per come noi disabili che c'è un roll bar dietro per sicurezza le cinture a quattro punti e l'acceleratore il freno sotto il volante adesso però è arrivata l'ora di vederlo in azione passo per passo ci fai vedere esattamente quello che fai da solo per salire in kart e guidarlo vai nico io utilizzo uno sgabello gentilmente pagato all'ikea quanti euro due euro forse benissimo lo posiziono fra il telaio e la pancia laterale sinistra poi va bene freno la carrozzina poi sposto le le gambe passaggio sul seggiolino poi gambe sul sedile e poi via che si scivola e tac e adesso manca solo casco guanti e la cosa più importante la cintura ecco federico io ho trovato questa storia veramente toccante mi piacciono molto queste cose vuoi parlarci dell'esperienza che hai avuto modo di raccontare eh io innanzitutto ringrazio ricchi per i complimenti che mi hai fatto però non devi ringraziare non devi fare complimenti a me ma a Nico perché lo ringrazio per questa opportunità che mi ha dato perché ho conosciuto Nico tramite un altro mio amico e mi aveva raccontato la storia di Nico Nico purtroppo ha avuto un incidente in moto e però vi devo dire la verità che l'ha presa bene quindi adesso si sta divertendo sta andando avanti della cosa più importante e ora sta provando questa avventura del pilota di kart gli sta venendo anche bene perché va forte stiamo vedendo Fede che il kart di Nico ha naturalmente i comandi al volante e una particolarità che ho notato che praticamente l'acceleratore è la leva di sinistra mentre il freno è quella di destra ma c'è un perché? sì l'ha preferito lui per comodità perché in caso di emergenza si sentiva un po' più comodo così perché può mettere la mano sul filtro quindi spegnere il kart in questa maniera anche tu hai provato il kart di Nico com'è stata questa esperienza guidare con le leve al volante? diciamo che hai insistito molto alla fine per farmelo provare e ho fatto giusto due giri per provarlo ti dico la verità all'inizio è difficile è strano perché soltanto sul freno in caso di emergenza cercavo il freno però ti dico la verità che lui ormai si è abituato così bene che riesce ad andare molto forte infatti lo stiamo vedendo adesso in pista è veramente un gran bel pilota è assolutamente quello che ha maggiormente la passione che è quello che serve per imparare e andare avanti perché con la passione secondo me superi qualsiasi cosa assolutamente ecco sentendo Nico ti ha detto durante l'intervista che non tante case costruttrici di kart realizzano dei mezzi per i disabili per adesso sfortunatamente no so che Birel gli ha dato una grossa mano quindi gli ringrazio molto e sinceramente gli ringrazio anch'io da parte sua e perché dà la possibilità a tanti ragazzi che hanno avuto magari incidenti di approdare in questo mondo del kart che secondo me è bellissimo spero che con questo video ed è successo e quello che volevo abbiamo fatto scoprire in Nico questo mondo questa possibilità a tante persone che hanno avuto questi problemi quindi in tanti mi hanno scritto mi hanno ringraziato di questa cosa qua ma io continuo a ringraziare Nico per la possibilità che mi ha dato di far vedere al mondo, all'Italia cosa c'è, cosa ci può essere anche dopo un infortunio qui sei tu adesso al volante del kart di Nico avete fatto proprio un gran lavoro Benedetta sì esatto sicuramente sono immagini di esempio che possono far capire a tutti che non si deve mai mollare questo è un po' il live motive di questo video naturalmente Fede è assolutamente infatti è proprio anche il suo detto arrendersi mai e anche se succede qualcosa tenere duro e cercare di andare avanti e divertirsi poi sappiamo che la salute è la cosa più importante al mondo quindi le altre cose sono secondarie sicuramente e quindi lui è l'esempio migliore che ho trovato fino adesso che ha avuto questo incidente in moto e comunque si sta divertendo e sta provando anche a fare bene perché è molto competitivo Nico bene bene ecco noi ringraziamo Nico Tremolada naturalmente seguitelo anche sulla sua pagina Instagram e lo salutiamo noi adesso andiamo avanti perché il nostro Federico Leo è stato protagonista di una bella sfida ben detto Ricky il pilota Lombardo qualche mese fa è stato in un kartodomo ed ha sfidato con un kart da noleggio una BMW M2 raccontaci un po' come nasce questa idea Fede di solito a me vengono di notte le idee prima di andare a dormire mi vengono le idee pensavo in bagno di notte sul letto penso e mi vengono queste idee qua e ho venuto in mente di fare questa sfida qua che sapevo benissimo già il risultato però perché ha vinto logicamente ma non pensavo di così tanto ha vinto l'M2 però rispetto a un kart a noleggio quindi un kart che può guidare chiunque logicamente il risultato sarebbe ben diverso vero Ricky? assolutamente con un kart da competizione si è confrontato con un kart da competizione però volevo far capire con questo video che un kart ha messo a disposizione dalle piste a noleggio che tanti lo chiamano trattore non è così tanto un trattore perché in pista va forte quindi ci si può divertire molto e soprattutto si deve usare la testa perché comunque raggiungono anche 80-90 km l'arri e in caso di incidente sono sempre 90 km l'arri contro un muro quindi si deve stare attenti abbiamo fatto questo video di intrattenimento certo e sicuramente lo riproverò con un kart da competizione per far vedere la reale differenza tra un kart da competizione e un kart a noleggio secondo me balleranno almeno 4-5 secondi minimo forse anche di più anche di più forse anche di più qua sei sul kart a noleggio poi proverai naturalmente la tua BMW il ragazzo che era con te ti ha cronometrato hai girato in 1,13 con il kart se non vado errato e 1,8 con la BMW M2 sì, non mi ricordo benissimo però più o meno quello di stacchi però era proprio una roba un video di intrattenimento simbolico per far capire cosa può fare un kart a noleggio assolutamente tanti ormai fanno anche i campionati con i kart rental quindi con i kart rental e ci si diverte molto ho fatto anche una 12 ore pochi mesi fa c'è un mondo dietro ai kart da noleggio è diventata veramente una disciplina quasi adesso non è più solo un divertimento c'è gente che lo fa a livello proprio professionistico vai Benedetta io Federico vorrei togliermi una curiosità con cosa hai girato più forte? in questo video? in generale nella tua carriera? vabbè, io ho avuto la fortuna di correre in GP2 che è la categoria massima che ho provato e con le monoposto mi sono divertito tanto mi sono spremuto diciamo perché comunque mi sono dovuto allenare tantissimo per poi passare in GT che è comunque una categoria più lenta però c'è un mondo di professionismo vero e poi ho corso anche in kart prima di correre in macchina purtroppo non ho corso così tanto in kart perché i miei genitori avevano paura quindi sono riuscito a convincerli dopo è un mare comune come i genitori di Benedetta che vuole fare la pilota di moto ma gli hanno tarpato le ali hanno preferito la danza esatto, da pilota di kart come hai detto a pilota di monoposto abbiamo visto delle tue bellissime immagini dove hai corso in Formula 3 World Series tutte le categorie principali del mondo del motorsport fino ad arrivare come qua alle vetture GT con Ferrari e Lamborghini vero Fede? eh sì, ho fatto una bella guarda l'immagine di Daniel, Ricciardo vi allenavate insieme? eh sì, abbiamo fatto anche un anno insieme il primo anno che è arrivato qua in Europa in Italia, abbiamo fatto un anno il 2007 insieme ciao Daniel semmai guarderai il video vi saluta Fede hai per caso dei consigli da dare ai nostri amici kartisti che vogliono avvicinarsi a questo sport? consigli? consigli ne potrei dare veramente tanti sappiamo tutti che è uno sport molto costoso purtroppo e quindi quello che vi posso consigliare è di trovare il modo e di impegnarvi il più possibile a trovare aiuti perché comunque anche gli sponsor non sono introvabili ci si deve mettere di impegno e ci deve lavorare duro per questa passione che poi può diventare anche un lavoro un domani ci sono mille maniere a farlo diventare un lavoro e quindi io vi dico tenete duro allenatevi divertitevi in primis perché è la cosa più importante in assoluto e poi se ci sono le piste come quella di Franciacorta che vi permettono anche di avvicinarvi a questo sport benvenga assolutamente assolutamente ragazzi noi siamo davvero in chiusura io volevo ringraziare tantissimo Federico Leo per la sua presenza nei nostri studi televisivi oggi e ragazzi seguitelo sul suo canale YouTube tutti gli amanti del motosport possono trovare dei video pazzeschi al canale Federico Leo proprio giusto? assolutamente sì ma siccome non lo dici mai seguite il mondo YouTube seguite anche il canale di Riccardo esatto che comunque ritrasmette su YouTube anche le tue trasmissioni assolutamente e noi andiamo a ringraziare la nostra Benedetta Pettinari grazie a te grazie a Federico e grazie a tutti i nostri amici telespettatori che troveremo presto su un carto su una minimoto adesso decidiamo voi ragazzi non cambiate assolutamente canale perché in esclusiva televisiva per quanto riguarda le nostre trasmissioni vi faremo vedere la nuova Ferrari di Formula 1 a tra poco questo programma è offerto da Officine.pro metterci alla prova conviene dimostra chiara ha laitta